Frodi nel settore previdenziale e nel sistema sanitario nazionale per 37 milioni di euro, più di mille reati fiscali e traffici di droga per centinaia di migliaia di euro. E' la foto della Puglia scattata dal Comando regionale della Guardia di Finanze che ha pubblicato il Rapporto annuale 2015, un quadro completo delle attività svolte su tutto il territorio nell'ambito della lotta all'illegalità economica e finanziaria e alla criminalità organizzata. Una strategia, quella messa in campo dalle fiemme gialle, che ha agito su tre leve principali, l'attività investigativa, i piani operativi e l'azione di contrasto dei grandi traffici illeciti via terra e via mare. Nell'ambito delle truffe sui fondi pubblici nella pubblica amministrazione, il bilancio del Comando pugliese parla di 574 soggetti denunciati, 24 dei quali tratti in arresto per frodi in ambito sanitario, 29 invece quelli finiti in carcere per richieste illecite di finanziamenti pubblici. Significativi anche i dati relativi ai reati fiscali all'economia sommersa, con quasi 900 soggetti denunciati ed il sequestro di disponibilità patrimoniale e finanziaria per oltre 66 milioni di euro. Importanti anche i risultati ottenuti sul terreno della lotta alla criminalità organizzata, 49 denunce per associazione mafiosa, 21 arresti e più di 1.400 beni immobili e immobili confiscati e sequestrati, oltre a 92 aziende e quote societarie, per un valore complessivo di 120 milioni di euro. Centinaia anche i controlli eseguiti in materia di contraffazione, che hanno portato al sequestro di oltre 17 milioni di prodotti illegali, per un valore stimato attorno ai 306 milioni di euro. 28 tonnellate i generi alimentari tolti dal mercato perché contraffatti o prodotti in violazione alla normativa sul Made in Italy. Infine, la lotta ai traffici di droga. Il bilancio delle fiamme gialle parla di 854 persone denunciate e 187 arrestate per i reati di detenzione e fini di spaccio di stupefacenti. 6 le tonnellate di sostanze sequestrate tra cocaina, hashish, eroina e marijuana.